Grazie a tutti. Eccola, sta già arrivando. Ciao Giulia. Ciao, posso fare subito dei segni tipo di utero così? Va benissimo. La serata, tra l'altro mi stavo sentendo gli interventi delle altre ospiti, anche stendendo tra l'altro perché noi signore siamo multitasking. Esatto. Ho avuto la sensazione che in realtà potrei anche non aggiungere niente. Quindi faremo questi 20 minuti così di… parliamo di musica se vuoi Giulia. Se vuoi mi punto addosso il ventilatore che qua dietro faccio bioce. Esatto. Io ti presento velocissimamente per chi non ti conoscesse già perché può essere che ci sia qualcuno che ancora non ti conosce. Giulia Blasi appunto è scrittrice, conduttrice radiofonica e giornalista ed è esperta di temi relativi alla condizione femminile e al femminismo. Appunto come dicevamo prima è stata ospite lo scorso anno del nostro TEDx e ci sembrava la serata più giusta proprio per averla di nuovo con noi. Abbiamo preso l'occasione al balzo. Quindi grazie mille per essere di nuovo qui questa sera. Grazie a voi perché per me TEDx è stato uno dei momenti più belli dell'anno serenamente. Quindi sono molto molto contenta di essere vostra ospite questa sera. Ora rispondo a nome di tutto il team che siamo veramente onorati. Proprio perché l'anno scorso sei salita sul nostro palco, quindi partiamo un po' da lì. Invito ovviamente tutti, finita questa diretta, ad andare a vedere e a rivedere il talk che hai fatto che parlava di leadership femminile. Quindi appunto in un mondo in cui, cioè come sia importante costruire un mondo in cui le donne possono essere delle leader possibilmente senza tutte quelle difficoltà che un leader uomo di solito non incontra. Non è facilissimo eh. No, infatti, a distanza di un anno tra l'altro ti chiedo Giulia, cioè secondo te è cambiato qualcosina? Possiamo accelerare in qualche modo questo processo se non è ancora proprio ben rodato e in atto? Posso dire di no, nel senso se non fosse successa, fosse scoppiata la pandemia, forse se non altro non saremmo andati almeno leggermente indietro. Ma gli interventi sia di Edith che di Sara Francesca ci hanno detto molto chiaramente che in realtà un'involuzione c'è stata. Io non sono il tipo di persona che ti dice, oh mia Dio stiamo andando indietro sui diritti. Cioè sono una persona abbastanza equilibrata in questo senso. Credo che si vada tendenzialmente avanti. Questa volta secondo me è successa questa cosa di andare un pochino indietro. Non per pianificazione in questo senso, ma perché ci siamo trovati in una situazione di emergenza. Nelle situazioni di emergenza tutti assumono le posizioni che sono a loro più familiari. E tutti ricadono più o meno sugli stereotipi, le idee che abbiamo nel mondo che sono più vicini alla nostra formazione. Includere le donne, fare in modo che le donne partecipino alla creazione del mondo, alla creazione dei processi decisionali, anche ai cambiamenti delle regole, è ancora uno sforzo. Non è naturale, non è una cosa che viene così normalmente per il pregiudizio di genere, per una marginalizzazione che dura da secoli e che non è assolutamente ancora finita. Perché per quanto siamo la maggior parte delle laureate, comunque non siamo assolutamente neanche... Siamo una percentuale infinitesimale delle dirigenti. Quindi ci sono una serie di fattori, è molto lunga da spiegare. Io invito tutti ad andare a documentarsi perché comunque i dati ci sono, quindi non si può far finta che i dati non ci siano. Ci sono anche le spiegazioni. C'era un articolo del Wall Street Journal, non esattamente la Pravda, ragazzi, che diceva in maniera molto chiara che se le donne non arrivano alla dirigenza è perché vengono fatte fuori ai piani bassi dell'ingresso al lavoro. Quindi si entra nel mondo del lavoro più o meno negli stessi numeri, maschi e femmine, poi le donne vengono fatte fuori a livello basso. Il famoso numero che è stato citato poco fa, delle 37.000 donne che hanno dato le dimissioni volontarie nell'ultimo anno, e questo è pre-Covid, perché Covid è degli ultimi sei mesi, cioè quattro mesi, ma prima che cosa è successo? Ne perdevamo dalle 20 alle 24.000 prima, quindi è peggiorata la situazione delle donne anche prima della pandemia. Però siamo andati un pochino indietro. Abbiamo un governo molto maschile, che pensa molto maschile, che riserva agli uomini comunque in automatico i ruoli di comando. Quando si è fatto presente che nelle task force governative non c'erano donne, o ce ne erano pochissime, a parte quella tutta ben recintata della ministra Bonetti, la risposta del governo è stata Vabbè, dai, aggiungiamo delle donne così sopra, come quando ti mettono il pecorino sopra la pasta. Cioè, non è una roba che è stata pensata prima, era una cosa che sono state aggiunte ob torto collo. Allora, lì capisci che non c'è veramente una volontà di inclusione, c'è solo una volontà di non farsi rompere le scatole. Infatti, se c'è una cosa secondo me che ha fatto proprio la pandemia e questo lockdown, è stata anche mettere in luce proprio tutti i limiti della nostra società, che conoscevamo anche prima, ci convivevamo purtroppo, però in questo momento abbiamo messo un faro sopra questi limiti, secondo me, e abbiamo a qualcuno, forse ha raggiunto anche una consapevolezza che magari prima non aveva. Le donne, come dicevamo prima, anche con, sì, le donne, cioè qualcuno di noi, insomma, forse... Dici che sono troppo ottimista. Secondo me non tanto, posso dire. Nel senso, sì, ci sono delle persone che per la prima volta si sono viste toccate dalla misoginia. Nel senso che moltissime donne, soprattutto le donne delle classi alte, che avevano sempre avuto tutto l'aiuto, l'appoggio e la possibilità di andare poi nel mondo, di fare le loro cose, di prendere quello che era loro, perché comunque avevano le risorse finanziarie, economiche e culturali per fare questa operazione. Una volta che gli hai tolto tutti i supporti, che tra l'altro, a maggior parte erano donne come loro, una volta gli hai tolto tutti i supporti, improvvisamente la misoginia è arrivata a mozzicarle, perché fino a quel punto non si erano resa conto di come in realtà fosse anche il lavoro delle altre donne a puntellare la loro esistenza. Quindi senza babysitter, senza tate, senza maestre, senza asili nido, improvvisamente tutto ricade sulle tue spalle, e gli uomini, anche qua ci sono gli studi, insomma non mi invento mai niente, gli uomini pensano sempre di fare molto più del lavoro che fanno effettivamente. Quindi ci sono stati fatti degli studi in America durante la pandemia, hanno chiesto a uomini e donne all'interno dello stesso nucleo familiare quanto pensavano di contribuire al lavoro domestico, e gli uomini hanno sopravvalutato il loro contributo del, mi pare, del 20-23%, comunque insomma una cifra abbastanza considerevole, quindi non fanno assolutamente metà del lavoro, semplicemente perché culturalmente non sono preparati a questo. Infatti, e in questo momento c'è chi l'ha pagata cara, no? Nel senso che molte donne si sono trovate proprio molto spesso a gestire, come dicevamo prima con Edith e Francesca, il proprio lavoro, la didattica a distanza, tutte le funzioni di cura, insomma il supporto che era necessario dare, senza magari più l'equilibrio che avevano riuscita a costruire prima del lockdown. E visto che siamo qui anche per capire un po' come costruire questo futuro possibile, e io che appunto forse sono un'eterna ottimista, ma negli ultimi mesi mi sono arrabbiata veramente tantissimo, lo faccio da anni e spero che tutta questa incazzatura serva prima o poi, sogno un mondo in cui sia normale per gli uomini fare la propria parte, e dove nascere donna non venga mai vista come una spiga, perché purtroppo ancora ogni tanto ci viene da pensarlo, e che ci si renda conto che il problema non sono le donne. Perché secondo te è stato così difficile essere donna in questo momento? E come possiamo arrivare ad un futuro di questo tipo? Perché io lo vorrei, insomma. Allora, non è semplicissimo, perché comporta delle rinunce anche importanti. Noi non possiamo essere esseri umani alla pari, uomini, donne, persone genderqueer, persone trans, tutte le varianti del genere che ormai sappiamo essere ben più di due, non possiamo essere considerati alla pari come individui, avere un nostro valore, vedere riconosciuto il nostro valore come individui al di là del sistema socio-economico. E il nostro sistema socio-economico è un patriarcato capitalista, né più né meno. Quindi noi l'abbiamo visto proprio in azione questa cosa, cioè in piena pandemia, riapriamo l'economia, prima la cosa degli aperitivi, poi riapriamo l'economia, poi Milano riparte, poi torniamo al lavoro, poi basta smart working, andate in ufficio, perché sennò il bar sotto l'ufficio non vende più. Lavora. Tutto un produci-consuma-crepa che non ci ha fatto fermare veramente a riflettere come società su quello che stava succedendo, quello che ci era successo, e sul fatto che il nostro modello non è sostenibile. perché a un certo punto qualcuno fa dei margini, anche importanti, su tutti questi soldi che vanno in circolo, e sono margini che vengono fatti a livello di speculazione finanziaria. Qua ci vorrebbe Mariana Mazzucato, che la spiega meglio di me, perché io sono un po' capra sulle cose economiche, mi sto cercando di capirci di più, però ci capisco veramente poco. Però il punto è che noi dobbiamo cambiare il sistema socio-economico, e non è una cosa che fai dall'oggi al domani. Soprattutto non è una cosa che puoi fare se non prendi in considerazione il pensiero, la filosofia e l'apporto di metà della popolazione, più di metà della popolazione. Le donne sono il 55% delle cittadine europee. Quindi siamo una maggioranza. Non si capisce perché continuano a trattarci come se fossimo una minoranza. Quindi la nostra rappresentazione in politica quando va bene è legata a delle quote, che comunque sono sempre delle concessioni. Almeno il 40%. No, grazie! Che bagnani mi! E gentili! Ogni volta che abbiamo uno spazio da qualsiasi parte, c'è sempre un uomo da ringraziare, bene o male, perché tirano, gli uomini bianchi di mezza età, anche più anziani, tirano le fila di ogni discorso, gestiscono i soldi e impediscono di fatto a nuove voci di crescere perché la mentalità è sempre quella dell'occupazione degli spazi. Ci sono degli spazi limitati, delle risorse limitate, noi invece di moltiplicare spazi e voci diamo degli spazi a pochi e chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Quindi non c'è la cultura della moltiplicazione delle voci, non c'è la cultura della moltiplicazione del leadership. Edith prima lo diceva, lo accennava il fatto che comunque la cultura, cioè lavorare in team con le donne significa spesso lavorare in maniera completamente diversa. Non è una cosa di cui farei una regola, perché anche le donne possono tranquillamente assumere la cultura patriarcale, la cultura maschile, quindi comunque fare le cose come le fanno gli uomini, allo stesso modo, con gli stessi mezzi, gli stessi metodi e lo stesso linguaggio. Si prendono un po' delle stronze, ma se una non sopporta bene questo tipo di aggressioni non è un problema. La cultura femminile, intesa come cultura basata sulla collaborazione e poi mutuata in parte dalle pratiche femministe, è una cultura reticolare. Il femminismo è reticolare. La leadership, fateci caso, non c'è il capo del femminismo, non c'è neanche più di una capa del femminismo. Ci sono delle pensatrici, ci sono delle filosofi, ci sono delle donne, delle attiviste, insomma persone che sono più o meno visibili in ogni momento della storia, ma i femminismi continuano a esistere e si moltiplicano costantemente per gemmazione, prendono forme diverse a seconda del luogo, della cultura, anche della singola donna. Quindi non c'è una formazione piramidale in cui c'è il capo partito del femminismo che dice alle altre, che detta la linea alle altre. La leadership è sempre reticolare, quindi ogni leader ne crea altre perché responsabilizza le altre. Se riuscissimo a importare un po' di questa cultura all'interno della nostra politica e del modo in cui gestiamo la cosa pubblica, io credo che ci sarebbe un miglioramento consistente del nostro stare insieme perché significa che comunque le persone possono partecipare ognuna secondo le sue capacità, ognuna secondo la sua preparazione alla costruzione della società che non dovrebbe essere basata sul successo individuale, ma sul successo della squadra, della società, di tutti. E allo stesso tempo non si può, perché poi c'è il problema, cosa fa il comunismo? No, perché i comunismi hanno fallito in un'altra cosa, nel permettere alle persone di avere una vita dell'anima, di essere degli individui, di esprimersi, di esprimere un'opinione, anche di dissenso. E quindi comunque quella cosa lì ovviamente va tenuta presente perché non ci può essere crescita se non c'è dialettica, la dialettica è fondamentale. Insomma, tutta una serie di cose che dovremmo cambiare, ma sostanzialmente dovremmo fare un sacco di sacrifici, non solo gli uomini, gli uomini sono i primi ovviamente perché sono quelli che hanno i maggiori dividendi dal sistema socio-economico e non si sono mai dovuti mettere in discussione, non hanno fatto un percorso di autocoscienza, le donne hanno 40 anni almeno di autocoscienza alle spalle. Gli uomini cominciano adesso, i numeri anche molto piccoli, però dal mio punto di vista, di persona che ha scelto di fare il percorso del femminismo insieme con gli uomini e non in maniera separata, vedo che comincia a crescere questa coscienza fra gli uomini, quindi cresce, inizia, c'è anche l'inizio di un percorso, cominciano ad esserci dei testi di riferimento, comincia ad esserci la costruzione di un pensiero strutturato e questa è la cosa che probabilmente ci porterà sulla lunga distanza, fuori dal tunnel, la collaborazione di tutte e di tutti. Abbiamo visto, dicevi tu prima, citavi le task force, abbiamo visto durante questa pandemia e anche adesso, insomma nella fase successiva, vabbè non è che sia finita la pandemia, ma insomma durante il lockdown e durante le fasi di riapertura, che i paesi con donne al governo hanno gestito un po' meglio questa crisi, mentre in Italia comunque, per quanto riguarda la gestione della crisi nelle varie task force, il ruolo delle donne, come dicevi prima tu, è stato un po' marginale, pur avendo assolutamente delle personalità riconosciute a livello internazionale che potevano dare un supporto in questo momento, ma non sono state assolutamente considerate. Secondo te, perché? Cioè è dovuto alla classe politica o è un limite sociale? Allora è un po' e un po'. Sicuramente la classe politica c'entra, c'entra tantissimo, secondo me anche il fatto che la nostra cultura non ha introdotto in nessun punto della formazione delle persone il discorso sul genere, e quindi tu vai a scuola, ma le questioni di genere non vengono assolutamente affrontate in nessun modo. Addirittura non ci sono le donne nei programmi scolastici, quindi sembra che gli uomini facciano e disfino interamente il mondo dalla loro prospettiva, quindi è sicuramente un problema anche di culturale. Però, quel poco che so della vita politica italiana è che moltissimo sono lotte per il territorio, correnti, sottocorrenti, gruppi all'interno dei partiti, uno tira di qua, uno tira di là, la dirigenza poi a volte ascolta, a volte no, insomma. Quello che dicevi sul fatto che le donne, che i paesi che hanno gestito meglio l'emergenza sono a prevalenza guidati da donne, io credo che sia un po', c'è un po' una questione, un po' una correlazione, cioè c'è una correlazione evidente fra i due fenomeni, credo che il punto non sia che sono donne, ma che per il fatto di essere donne, se non sono state cooptate da un sistema patriarcale, sono riuscite a emergere in qualche modo per le loro qualità, perché hanno portato una visione nuova e sono state votate per quello, sono molto più brave, banalmente, perché la società patriarcale giudica le donne in maniera molto più severa degli uomini, per cui per citare Ginger Rogers, assolutamente la mia citazione preferita, Ferro del Mestiere, Ginger Rogers diceva io facevo tutto quello che faceva Fred Asterma all'indietro sui tacchi alti, più o meno il livello che viene richiesto è questo, alle donne viene perdonato molto meno, vengono attaccate molto di più, si devono preoccupare di molte più cose, tu ti devi preoccupare costantemente del tuo aspetto se sei una donna, io non mi immagino che una donna possa andare in televisione conciata come era conciato ieri Boris Johnson in un'intervista con, non mi ricordo che canale, però l'ho visto, insomma, era veramente sciatto, io l'ho guardato e ho detto questa sciatteria una donna non se la potrebbe permettere, quindi ci dobbiamo preoccupare di essere truccate, curate, pettinate, depilate, per carità, perché il pello non si può vedere, magre, magre, perché sennò poi arriva il capo di governo italiano che ti ha posto e fa con epiteti irripetibili perché non gradisce le dimensioni del tuo De Rettano, insomma, non è proprio semplicissimo, dobbiamo lavorare quindi su più fronti, non possiamo pensare che possiamo cambiare un pezzettino o che basti infilare a forza delle donne nei posti degli uomini, perché se non cambi la cultura non cambia niente, quindi va fatto tutto contemporaneamente, e qui alla getta gli viene l'ansia giustamente, anche io ogni tanto, anche a me ogni tanto, è come guardare nell'infinito, e l'unico modo per farla, questa cosa qua, è farla un pezzo alla volta, metodicamente, ogni giorno, come se facessi, come se facessi una scala mobile lunga, 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 o devi fare una scalata lunga, 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 se guardi su, ti spaventi, se vuoi arrivare su, devi guardarti i piedi e fare un passo alla volta, un passo alla volta, finché non arrivi in cima, non c'è una cima, non c'è una cima, quindi, noi moriremo, io morirò, perché sono 15%, morirò prima di aver visto, realizzata la parità, neanche fra i geni, ma proprio fra gli individui, però, va bene, cioè, questo non mi impedisce di continuare a lavorarci, perché sono sicura che quando sarò un po' più vecchietta, qualche miglioramento, l'avrò sicuramente visto. E incrociamo le dita e speriamo, quali sono secondo te le conseguenze di questa mancanza, nel disegno anche delle strategie di ripartenza? E hai appena detto appunto che bisogna costruire un pezzettino alla volta, fare un passo alla volta, quali sono secondo te le cose prioritarie magari per aumentare la presenza delle donne all'interno proprio dei processi decisionali e quindi fare in modo che anche la nostra voce insomma sia più presa presente? Due cose, le quote, perché non c'è altro modo purtroppo, il paragone è un po' con la miopia, cioè, se io non ci vedo, mi devo mettere gli occhiali, non posso pretendere di fare le cose se non vedo niente, devo per forza mettere una correzione alla mia miopia, io sono diventata presbite, ahimè, per vedere la chat dove stanno passando le domande in questo momento devo tenere gli occhiali, altrimenti non li vedo. le quote sono la stessa cosa, servono a correggere quella che è una nostra, è un nostro difetto di vista congenito, noi non vediamo le donne, neanche le donne vedono le altre donne, quindi per evitare che le donne, che individui capaci e competenti vengano lasciati fuori dai processi decisionali con danno per tutti, bisogna cominciare a mettere un sistema di quote, questo non significa fare entrare le donne per il loro genere, significa evitare di far entrare troppi uomini per il loro genere, perché in questo momento le quote sono le quote azzurre, allora continuiamo a chiamarle quote rosa in senso dispregiativo, in realtà bisogna mettere delle quote perché altrimenti le donne brave non entrano. Poi bisogna investire sulla, vabbè, è inutile dire investiamo sull'educazione delle donne perché è ridicolo, le donne sono già più brave degli uomini all'università, quindi quella cosa lì di dare i voucher per fare il master in business administration, onestamente mi pare lascia il tempo che trova. Congedi di paternità obbligatori, vuoi fare un figlio? Beh, fate anche il congedo di genitorialità, non importa se sia maschio o femmina, metà, devi farti un periodo obbligatoriamente a casa, questa cosa qua risolve due cose, la prima è che responsabilizza in qualche modo costringe agli uomini a occuparsi dei figli, brutto, ma va detto. Seconda cosa è che leva una penalità sulle donne, perché se è vero che in qualche modo ti devi fare i primi mesi perché il parto, perché l'allattamento, insomma, dopodiché quando puoi effettivamente tornare a lavorare perché fisicamente non hai più bisogno di essere costantemente col bambino e ti sei anche un po' ripigliata, diciamocelo, tornare a lavorare dopo due settimane come si fa in certi paesi, mi sembra un po' punitivo, non c'è nessun motivo per cui non debba essere il coniuge a occuparsi del piccolo e questo toglie ai datori di lavoro la scusa di non prendere le donne perché poi rimangono incinte, che è una cosa che non si può sentire ma che succede ancora di continuo in Italia. Quindi, in qualche modo ridistribuire anche con appunto un provvedimento di legge il carico all'interno delle famiglie. poi mi viene sempre una battuta ma una battuta molto brutta perché alla fine noi parliamo sempre di denatalità e non nascono abbastanza bambini eccetera ma non ci domandiamo mai qual è la qualità media degli uomini con cui dovremmo filiare cioè quanto sono disposti effettivamente a fare la loro parte e non semplicemente contribuire il minimo indispensabile e poi telare perché loro hanno le cose importanti da uomini da fare. cioè ecco la denatalità mi sa che non è un problema delle donne ma così ce n'è proprio un piccolo sospetto. Neanche questo è un problema delle donne che abbiamo capito anche se in realtà purtroppo viene ancora visto così e viene fatto pesare anche sulle spalle delle donne con giudizi per chi magari sceglie di non fare figli che è anche questo è un aspetto personale infatti fino a essere attribuita alla situazione economica sicuramente ci possono essere preoccupazioni di carattere economico ma alla fine se tu hai veramente forte la spinta alla maternità i figli li fai certo si facevano in tempo di guerra figuriamoci se non si possono fare adesso il problema poi fame disperazione li mandavano a scuola scalzi per caità però comunque in qualche modo in parte sono riuscite ad arrivare all'età adulta però fare figli o meno è una scelta personale e siccome abbiamo la contraccezione apposta per poter esercitare questa scelta personale non si capisce perché poi bisogna si debbandare dalle donne a dire ma non fate più figli metteteci nelle condizioni di farli non soltanto dicendo che ci date dei soldi a pioggia perché stiamo a casa a fare le massaie come ogni tanto viene sempre dalla destra questa cosa di pagare il lavoro domestico che per carità da un certo punto di vista il lavoro di cura andrebbe in qualche modo compensato o retribuito ma non se diventa un modo per tenere le donne a casa tenerle fuori dal mondo del lavoro infatti una delle cose che io come dicevo prima a me capita di arrabbiarmi spesso è proprio per le discriminazioni per i fatti di di cronaca chiamiamoli di cronaca che vediamo praticamente tutti i giorni uscite di vari personaggi famosi insomma siamo esauste ma continuiamo continuiamo ad arrabbiare molto stanca molto stanca esatto però continuiamo a cercare di farci sentire in alcuni casi ci scontriamo con l'influenza comunque del patriarcato in altre donne quando appunto ci affrontiamo appunto determinate problematiche ma qualche volta anche in noi stesse essenzialmente non dobbiamo pensare appunto al patriarcato come una cosa esterna una cosa che non ci appartiene una cosa che arriva da fuori perché in realtà è una cosa in cui siamo immersi come la famosa acqua dei pesci del racconto di David Foster Wallace che girava un po' di tempo fa per i social su quelle cose che diventano poi dei meme anche se sono letteratura di due pesci che si incontrano nell'acqua e uno dei due dice all'altro l'acqua è calda oggi e l'altro che cos'è l'acqua? perché sta dentro non c'è la differenza ecco il patriarcato è la stessa cosa cioè noi ci stiamo dentro completamente perché è il nostro sistema socio-economico e culturale sociale-economico e culturale quindi noi siamo tirati su dentro questo questo sistema io e te portiamo il cognome di nostro padre io porto il cognome di mio padre la maggior parte delle donne porta il cognome del padre per la legge italiana quando ti sposi aggiunge al lato del matrimonio il cognome del marito quindi più chiaro di così si crepa cioè sono gli uomini ad avere comunque il controllo della situazione però comunque la cultura patriarcale va molto al di là della questione maschi-femmine eccetera è proprio una questione di gestione del potere di gestione della vita individuale della vita culturale insomma una serie di cose di cui abbiamo parlato prima di cui hanno parlato un sacco di femministe prima è meglio di me quindi dobbiamo un po' anche un po' rilassarci nel senso che spesso stiamo lì sedute seduti come se il patriarcato dovesse arrivarci alle spalle all'improvviso e invece stiamo seduti dentro e quindi spesso agiremo secondo anzi quasi sempre a meno che non facciamo una radicale presa di coscienza comunque agiremo secondo quelli che sono le regole che abbiamo appreso dopodiché nulla ci vieta di fare anche un mix nel senso che ci sono delle cose che ci possiamo tranquillamente tenere e non muore nessuno se ci fanno piacere che ne so appunto la famosa depilazione in un mondo non patriarcale tu potresti scegliere che cosa fai dei tuoi peli quindi che tenerteli o tagliarteli sono i tuoi peli ci fai quello che vuoi invece per come siamo adesso essere pelose essere una donna pelosa è un atto politico perché è fastidioso all'occhio allora tu devi scegliere deliberatamente che quel pelo ti piace te lo tieni e non te ne frega niente di quello che dice la gente però quello è patriarcato il controllo sui corpi è patriarcato il controllo sulla sessualità è patriarcato tutto quello che è controllo ha a che vedere con il patriarcato il femminismo ti libera in teoria cioè ti dice non fare del male dagli altri ma fai di te del tuo corpo della tua vita quello che vuoi e quindi noi continueremo a cercare appunto di liberarci del tutto da questo patriarcato io ti faccio l'ultima domanda ma invito ovviamente chi ci sta seguendo a commentare la diretta o se ci sono qualche domanda qualche curiosità scrivetela nei commenti perché la giriamo subito a Giulia mentre ci risponde all'ultima sto guardando la chat essenzialmente c'è tutto il momento il momento imbarazzo in cui sono rimasta da sola e quindi vai un momento panico non sanno benissimo che se fossi rimasta da sola avrei monologato per tutta alla fine no no te la saresti cavata egregiamente anche senza di me perché io sono solo una spalla in tutto questo degli ospiti però dai ti dico sono sempre andate tutte lisce queste dirette e ci voleva un po' un imprevisto se no non ci sembra neanche di essere in un evento no bisognava un po' creare un po' di pepe ti faccio allora l'ultima domanda intanto vediamo se ne arrivano altre è appunto quella che abbiamo fatto a tutti gli ospiti che sono stati con noi qui all'altro binario fin qui perché appunto è un viaggio verso futuri possibili giustamente in questo viaggio ci portiamo una valigia che cosa mette Giulia Blasi in questa valigia verso un futuro possibile possibilmente femminista allora una cosa per me cioè ci metto il computer perché se butta male almeno mi racconto una storia mi sei lì e mi racconto una storia quindi se butta male non mi sento sola e poi ci metto una cosa astratta che non credo che nessuno sia ancora riuscito a sintetizzare vorrei della pazienza perché ultimamente l'ho un po' finita allora avrei bisogno di una ricarica di pazienza quindi se qualcuno mi può mandare della pazienza per favore che io sono un po' accorto grazie altrimenti forse meglio che qualcuno faccia un po' di cose al posto mio perché ho un po' l'amicia corta datemi la pazienza grazie benissimo faremo in modo di fartela trovare nella tua valigia Giulia anche perché abbiamo abbiamo bisogno della tua verve e della tua grinta non solo tu ovviamente ma di tante altre che si battono tutti i giorni però ovviamente serve tanto che persone come te non si stanchino insomma di farsi sentire che diano voce anche a chi magari non si fa sentire per tanti altri motivi insomma non è così coraggioso ancora da esternare il proprio disagio o far presente che alcune cose non vanno quindi la procureremo grazie anche perché veramente è proprio finita finita tra l'altro c'era Valentina nella chat che dice la pazienza è femminile vabbè io vorrei chiusare che il mio femminile in realtà è un po' l'ho dato al gatto e quindi non lo porti sempre con te Giulia sono stessa femminile adesso mi tocca tornare a casa a prenderlo mannaggia eh vabbè dai ce ne faremo una ragione grazie mille tantissimo Giulia per essere stata di nuovo qui con noi questa sera io ringrazio tutte le persone che ci hanno guardato ci scusiamo per questo breve intoppo potete ovviamente se vi siete collegati in ritardo potete ovviamente recuperare tutte le interviste che abbiamo fatto questa sera le nostre ospiti e anche quelle delle puntate precedenti io ringrazio come sempre il super team di TEDx Vicenza che avete visto al momento opportuno spunta subito pronto a sostituire anche me che mi crolla la connessione e vi ringrazio davvero tanto per essere stati qui con noi continuate a seguirci sulla pagina Facebook e sul canale YouTube se volete iscrivervi alla nostra newsletter vi avviseremo delle prossime prossime eventi e delle prossime live ci prenderemo una piccola pausa per i mesi più estivi ma tranquilli stiamo già lavorando per tante altre cose ovviamente per il nostro evento per cui continuate a seguirci grazie a tutti voi grazie al team di TEDx Vicenza e grazie ai nostri ospiti alla prossima ciao ciao